Io l'ho capito in mezzo all'inferno. L'inferno non è fatto di fuoco, di fiamme. Ovvero, quella volta c'era il fuoco, del sole in Messico. Il fuoco del sole in Messico. Ci sono luoghi dove non crescono i fiori. I fiori crescono ovunque, ovunque nel mondo, dovunque vai. Trovi i fiori più belli. E così, camminando in quella strada deserta, a un certo punto senti il suono, una tromma messicana in fondo, una musica, una nenia e una folla di uomini maschi. Il fuoco del sole in Messico. Grazie. 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 Grazie.